In carrozza! Galleria! Sì! Passaggio a livello! Pure! Stazione! Adesso tocca a me! Hai perso il treno! Il 6 novembre parte la locomotiva di Zio Paperone in edicola con Topolino per 4 settimane e il gruppo Banco Popolare di Perone e Novara ti aspetta con il vagone Go! È un orario, eh!